Ho qualche incertezza in partenza dovuto come noto al problema dell'altare, alle vincoli che la sovrintendenza aveva messo ai salvataggi di questo manufatto, ora il campiere è partito, è partito bene, sono finite con questa settimana le opere di demolizione del precedente manufatto su cui poi verrà costruita la nuova struttura, quindi quei ritardi, quelle settimane di ritardo che originariamente si erano create nell'avvio del cantiere, oggi l'azienda appaltatrice e anche la nostra stazione appaltante IRE ci garantiscono che verranno recuperate, anzi sono già state in parte ammortizzate e che quindi la struttura verrà finita come da preventivo entro il 2020, sono stati estanziati anche i soldi per gli arredi, per le strutture, oltre 30 milioni di Euro per completare poi la funzionalità dell'opera che non è fatta solo di mura e finestre ma anche ovviamente da quello che ci sarà dentro e io credo che entro il 2020 Spezzi avrà un moderno ospedale costruito con criteri di efficienza, di funzionalità che potrà decisamente fare un salto di qualità alla sanità ligure su cui stiamo comunque lavorando anche qua, entro la fine di aprile io credo che il restyling del pronto soccorso come è stato fatto a San Martino e Genova, un'importante iniziativa per l'interiore riduzione delle liste d'attesa, la potremo presentare in questa città. Questo ospedale verrà realizzato, sarà una struttura nuova, sarà una struttura tecnologicamente avanzata, abbiamo anche sbloccato l'ultimo stralcio dell'articolo 20 dei fondi per gli arredi e le attrezzature, i cittadini di questo comprensorio non saranno più costretti ad andare fuori regione per trovare delle risposte adeguate e quindi direi che idea di secondo livello, idea di primo livello al cittadino interessa essere curati bene, che la vita venga salvata, che ci sia un pronto soccorso moderno, funzionale. Queste sono le risposte che noi daremo ai cittadini. Tanti credo che la giornata di oggi sia certamente positiva per questo cantiere dell'ospedale che ovviamente vede finite le fasi di demolizione e iniziare finalmente invece con le fasi di costruzione dell'opera pubblica e ci tenevamo comunque a seguirlo e comunicarlo ai media, ovviamente a tutti i cittadini perché è un cantiere che sta lavorando con qualche imprevisto che c'è stato ma evidentemente che è stato superato e stiamo credo riallineandoci a quel cronoprogramma che è l'obiettivo di tutti, cioè dare alla provincia della Spezia un ospedale entro il 2020.